Le attività estrattive di idrocarburi molise al centro della discussione in consiglio regionale. Lo Stato non può non tenere conto del volere di cittadini e denti locali, le parole del consigliere Patrizia Manzo in aula. L'emergenza maltempo sembra essersi placata nelle zone del capoluogo in alto molise e tanti gli interventi e le richieste d'aiuto. Lo sciame sismico fa ancora paura. Con l'insediamento del consiglio camerale nata la Camera di Commercio del Molise, con sede legale a Campobasso e sede secondaria ai Sernia, la presidenza Paolo Spina che si è detto pronto a raccogliere la nuova sfida. Ai microfoni di Molise TV il mister Rosso Blu Massimiliano Favo che ha commentato la prima sconfitta del 2016 del Campobasso. Meritavamo qualcosa in più, bisogna verificare qualche situazione arbitrale, la sua dichiarazione. Ben trovati con l'informazione di Molise TV in apertura. Come abbiamo sentito anche dai nostri titoli, parliamo del consiglio regionale. Tornato a riunirsi oggi all'ordine del giorno, le ispezioni petrolifere nel mare Adriatico. Il resoconto dei lavori nel servizio di Samantha Ciarla. Le attività estrattive di idrocarburi Molise al centro della discussione in consiglio regionale, con la mozione a firma dei consiglieri Manzo, Federico, Ciocca e Ioffredi. Oggi troviamo con il tema delle trivellazioni. Ricordiamo anche che la mozione l'abbiamo dovuta aggiornare, in quanto comunque chiedeva determinati impegni alla regione entro il 25 dicembre, termine in cui scadevano le osservazioni del pubblico per un'altra istanza di ricerca, che è quella dell'Erminio in corso di via presso il Ministero dell'Ambiente. Dopodiché il 22 dicembre è stato emanato un nuovo decreto autorizzativo di ricerca alla PetroCertic in mare, con una tecnica di ricerca molto invasiva, quale è quella dell'Airgun. Noi adesso chiediamo alla regione che prenda una posizione ferma contro questa politica energetica scelerata degli idrocarburi, che sta riportando di fatto l'Italia al Medioevo in termini di energia e che faccia rispettare lo statuto della regione Molise e quanto poi contemplato e richiamato nei diversi piani operativi, nelle diverse programmazioni europee che la regione Molise ha adottato. Si può fare fronte comune e arrivare a un documento condiviso? Diciamo che alcuni consiglieri della minoranza hanno condiviso il nostro testo. Vediamo adesso di andare in fondo al dispositivo e di approvarlo senza modificarlo o stravolgendolo. Noi chiediamo dei punti fondamentali, che la regione si doti di una pianificazione seria in tema di energia, soprattutto di idrocarburi, che si doti di un osservatorio antitrivellazioni per dire no e contrastare con professionalità nelle sedi opportune le diverse stanze di ricerca attive sul nostro territorio e che impugni o comunque contrasti nelle sedi opportune anche il decreto di autorizzazione rilasciato alla Petrociartic. Ma l'autorizzazione concessa a largo delle isole Tremiti è solo la punta dell'iceberg dal momento che sono ben 23 le stanze dei petrolieri che interessano praticamente tutto l'Adriatico, con milioni di ettari richiesti. Di queste, 13 stanze di permesso di ricerca sono addirittura d'arrivo per 9 il decreto finale del Ministero dello Sviluppo Economico e atteso a momenti e per altre 4 sta per essere emanato il decreto di compatibilità ambientale da parte dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, dopo il parere positivo della Commissione di Via Nazionale dello scorso 15 maggio 2015. Intanto il fronte del no cresce sono in tanti a chiedere rispetto e la tutela del mare Adriatico. Restiamo in tema, oltre 50.000 firme online, quelle raccolte per dire no alle perforazioni nel mare Adriatico davanti alle isole Tremiti. L'eventuale revoca del decreto di ricerca sulle Tremiti sarebbe un bel gesto da parte del Governo, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante il convegno connettere l'Adriatico che si è svolto a Pescara e a cui hanno preso parte anche il Governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e quello del Molise, Paolo Di Laura Frattura. I dettagli nel servizio. Centralità del ruolo delle Regioni, salvaguardia dell'ambiente e delle ricchezze naturali, tutela del turismo, della pesca e del sistema marino. Partendo da questi presupposti, il Consiglio regionale del Molise lo scorso 22 settembre aveva approvato la richiesta di referendum abrogativo di un articolo dello Sblocca Italia di 5 del decreto sviluppo, così come fatto anche da Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria e Campania. L'obiettivo era quello di dare ai cittadini la possibilità di esprimersi su una tematica che riguarda da vicino la propria salute e il proprio benessere, preservandolo dai gravi rischi connessi alle attività estrative di idrocarburi, quali l'inquinamento dell'acqua e dell'aria e il rischio sismico, ma anche tenendo ben presente il danno al patrimonio turistico, archeologico e storico. Questione tornata con forza alla ribalta a seguito della pubblicazione del decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla PetroCeltic il permesso di ricerca di idrocarburi, liquidi e gassosi nel mare Adriatico. Anche se il ministro Federica Guidi ha parlato di polemiche presuntuose e infundate, appare evidente. hanno dichiarato i consiglieri di centrodestra come ancora una volta le regioni siano state in parte private del loro ruolo di partecipazione e programmazione del territorio. Il Consiglio regionale del Molise nella seduta del 12 gennaio ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato a partecipare alle riunioni dei delegati regionali del referendum, invitando il Governo nazionale ad annullare le autorizzazioni concesse il 22 dicembre, ma i consiglieri regionali di centrodestra avrebbero preferito eseguire la strada intrapresa da Basilicata, Veneto, Puglia, Marche, Ligure e Sardegna, che a loro volta hanno firmato la Procura per sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Una questione molto delicata dunque, che secondo il centrodestra regionale non deve assolutamente essere trascurata e sulla quale è chiamata a esprimersi il 19 gennaio prossimo la Corte Costituzionale. Sono convinto che su questi temi ancora una volta riusciremo a costruire in contraddittorio costruttivo con il Governo. Con la legge di stabilità il Parlamento per gran parte ha dato una risposta puntuale. Rimane in piedi la questione sul merito del pronunciamento, ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, durante il convegno connettere l'Adriatico a Pescara, al quale ha partecipato anche il Governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha rimarcato l'impegno, dopo lo stop alle 12 miglia per le ricerche petrolifere in Adriatico, a difendere le tremiti, patrimonio dell'umanità. Tematica poi ripresa dal Presidente della Puglia, Michele Emiliano, che ha ribadito non può accadere che tutta questa storia venga gestita negli uffici come se fossero pratiche burocratiche. In conclusione, Emiliano avrebbe poi avanzato una richiesta al Governo. Ci auguriamo che finalmente il Governo si seda in un tavolo per discutere con noi della politica energetica, nella parte in cui questa riguarda le Regioni. Furto, truffa, sicurezza sui luoghi di lavoro e sfruttamento del lavoro nero. Questo è il bilancio dei reati denunciati nell'ultima attività condotta dai carabinieri della provincia di Isernia. Arrestato a Venafro dai militari della locale stazione, un quarantenne del posto pluripregiudicato per furto avvenuto tempo fa ai danni di una donna del posto. Denunciato invece a Isernia un 45enne del luogo per truffe e falsità materiale. Infine una task force dei reparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma. Hanno passato al setaccio numerosi cantieri edili e altre attività imprenditoriali tra Isernia e Comuni limitrofi. Sei sono state le persone denunciate per inosservanza alle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla regolarità occupazionale dei lavoratori. Cambiamo argomento. L'emergenza maltempo sembra essersi placata nelle zone del capoluogo. L'Alto Molise invece ha le prese con la prima neve. Sono all'opera i vigili del fuoco su tutto il territorio molisano per mettere in sicurezza i punti sensibili e limitare i danni ai cittadini. Sentiamo il servizio di Rita Lamenta. Pare che il maltempo abbia deciso di concedere una tregua. Per almeno una settimana dovrebbe allentare la sua morsa che da giorni tiene stretta la nostra regione. Ne hanno approfittato i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso perlustrando il capoluogo questa notte, eliminando i pericoli provenienti dall'alto dai tetti sui quali si erano formate grosse lastre di ghiaccio potenzialmente pericolose, mettendo in sicurezza quindi i punti sensibili della città. Inoltre da circa 48 ore l'Alto Molise è interessato dalla prima nevicata dell'anno. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Isernia sono impegnati nell'emergenza in atto con un dispositivo rinforzato nella sede di Agnone, dove sono in servizio più squadre operative. Da ieri circa 50 gli interventi svolti legati per lo più alle condizioni meteo avverse, con soccorso anche a persone rimaste bloccate nelle proprie auto dalla neve o dal ghiaccio, piccoli incidenti stradali a causa del fondo ghiacciato. Ancora scuole chiuse oggi in oltre 50 comuni della regione e a Campobasso è stata disposta la chiusura anche per domani, vista l'abbondante formazione di ghiaccio per le strade che rende la percorribilità piuttosto pericolosa e gli eventi sismici ancora in atto che potrebbero creare situazioni di allarme nelle scuole. Stessa sorta è per le sede di Campobasso dell'Università degli Studi del Molise, a cui oggi è consentito l'accesso solo al personale tecnico e docente. In azione i mezzi spargi sale per fronteggiare l'emergenza ghiaccio e limitare le problematiche alla viabilità. Restiamo in tema maltempo e terremoto. Se lo sciame sismico dagli ultimi accertamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta perdendo consistenza, resta ancora tanta la preoccupazione tra i cittadini. Vediamo. Pare che l'ondata di maltempo che ha travolto il Molise con raffiche di vento e fitte precipitazioni di neve negli ultimi giorni si è giunta a termine, lasciando solo mucchi di neve ai bordi delle strade, gelo e tanto freddo. Questa mattina la colonnina di Mercurio è scesa sotto lo zero fino a meno 7 gradi, ma non è stato di certo il maltempo a spaventare i molisani che alla neve sono abituati, seppur molte volte colga impreparati, ma bensì lo sciame sismico che negli ultimi giorni è stato localizzato nella zona tra Baranello e Vinchiaturo. Dalle ultime segnalazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sembrerebbe che lo sciame sismico stia perdendo consistenza. Solo due infatti le scosse registrate durante la notte, la cui magnitudo non supera i tre punti. Non possono però essere rassicurati i molisani, in quanto il terremoto rappresenta un fenomeno imprevedibile, come ha dichiarato il consigliere delegato alla ricostruzione e alla protezione civile, Salvatore Ciocca. Restano dunque tensione e paure in regione, le scosse hanno riportato alla mente dei molisani brutti ricordi vissuti 14 anni fa. Pensieri difficili da affogare, che quando tornano a galla fanno male. Ma abbiamo solo paura, però bisogna aspettare una cosa del genere. La situazione è triste, veramente triste perché la gente vive con la paura. Io, sì, anche io ho un po' di paura, però poi alla fine ti convinci di quello che succede. Mia moglie come sente una scossa, piange, è una disdetta. Poi ho parlato con alcuni amici e purtroppo si vive questa situazione. La neve, noi siamo abituati, non è un problema, perché siamo sempre usciti, camminiamo, ci siamo nati con la neve. Però è quello che fa più paura il terremoto. Perché alcune persone poi su internet mettono che, come il sisma dell'Aquila, tutti questi giorni, poi arriverà la botta fatta, ma non è vero niente. Siamo nelle mani del Padre Eterno. La neve è la norma di Campobasso. E il terremoto è che ci stiamo convivendo, non è che possiamo fare granché. Le scosse sono state avvertite in maniera sensibile e quindi ovviamente piacere non fa. Aspettiamo che questa cosa passi nel più breve tempo possibile. Fortunatamente c'è però chi non pensa al peggio e non rinuncia alla propria libertà neanche con neve e terremoto, ma anzi approfitta dei giorni di chiusura delle scuole per una bella partita a palle di neve. Prosegue il monitoraggio dello sciame sismico. Registrate altre lievi scosse nella notte e in mattinata. Intanto sono iniziati i controlli su edifici pubblici e scolastici. Sentiamo Samantha Charla. La terra ha continuato a tremare in Molise, uno sciame sismico che preoccupa e che ha messo tutti in allerta. Nella notte due le scosse rilevate dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rispettivamente di magnitudo 2.9 e 2.2 ed entrambe ad una profondità di circa 10 chilometri. Le istituzioni che stanno monitorando costantemente la situazione hanno invitato a non creare allarmismi. Il fenomeno non è prevedibile. Ci sono casi come l'Aquila ha puntualizzato Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi in cui a un lungo sciame sismico ha fatto seguito un evento distruttivo e tantissimi altri in cui invece l'energia liberata dalla terra scema gradualmente in termini di frequenza e intensità. Il governatore Paolo di Laura Frattura, che segue di persona anche in protezione civile l'evolversi della situazione, ha annunciato che le verifiche post-sisma interesseranno non solo gli edifici scolastici ma anche le strutture pubbliche, in modo da garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Come annunciato a Lanza, il Presidente ha reso noto l'intenzione di mettere in piedi una task force di esperti. Il piano di sicurezza prevede in caso di necessità l'aggregazione della popolazione in punti sicuri che rientrano nel piano di protezione civile e sono già stati allertati tutti gli amministratori interessati. Sottoscritta apposita convenzione finalizzata ad assicurare una più intensa attività di controllo in materia di posizioni reddituali e prestazioni sociali aggelvolati. Come è noto, la capacità reddituale di ogni singolo utente influisce sui costi complessivi di frequenza e studio. Non mancano pertanto furbetti che al fine di ottenere sgravi fiscali attestano indici di reddito in tutto o in parte non veritieri. Il documento che è stato sottoscritto dai vertici dei tre organismi, il colonnello Paolo Damata, il rettore professor Gianmaria Palmieri e il presidente ESU dottor Candido Paglione, avrà durata triennale e potrà essere ulteriormente rinnovato. Punto cardine della collaborazione sarà lo scambio di dati e notizie che si svilupperà a mezzo di procedure informatiche che consentiranno un adeguato ed attento monitoraggio delle posizioni beneficiari e di agevolazione. E cambiamo nuovamente argomento. Completato in Molise è l'iter di unificazione degli anticamerali. Alla guida della Camera di Commercio del Molise, con sede legale a Campobasso e secondaria a Isernia, Paolo Spina, che abbiamo intervistato. Sentiamo. Paolo Spina, con l'insediamento del Consiglio Camerale è nata ufficialmente la Camera di Commercio del Molise che la vede come presidente. Sì, siamo riusciti alla fine ad arrivare anche con una certa celerità alla fine di questo percorso per cui da oggi, anzi da ieri, noi abbiamo un'unica Camera regionale sul nostro territorio ed è la prima Camera regionale a livello Italia sostanzialmente. Ecco, che cosa cambia per spiegarlo bene ai nostri telespettatori? Ma che cosa cambia? Innanzitutto cerchiamo di ottimizzare sostanzialmente i costi perché, come lei ben saprà, con la riforma della pubblica amministrazione le Camere di Commercio hanno subito un taglio del 35% delle entrate di fatto e quindi significa tagliare soprattutto i costi della governance. Abbiamo ridotto di fatto del 50% i costi della governance e quindi dei presidenti della Giunta e del Consiglio. Poi riusciamo a liberare delle risorse umane e quindi quel know-how che noi abbiamo all'interno del sistema camerale che possono essere utilizzate per dare un supporto concreto sul territorio alle nostre imprese. Ecco, sono arrivati anche gli auguri del governatore Frattura che ha detto l'ente camerale può diventare davvero uno strumento fondamentale per la Regione Molise. Bene, io ho appreso, lo ha detto in diretta ieri a tutti i consiglieri, non può che farmi piacere una cosa del genere. Quindi questa apertura importante e puntuale del presidente Frattura. Ma noi siamo degli imprenditori e quindi alle parole noi chiediamo che ci siano poi dei fatti concreti. Quindi noi siamo a disposizione delle istituzioni per una collaborazione concreta con l'istituzione regionale, quindi direttamente con il governatore e con gli assessori di riferimento del sistema camerale. Ecco, nell'immediato la Camera di Commercio che cos'è in cantiere? Beh, innanzitutto abbiamo la necessità di capire e anche da un punto di vista tecnico come procedere, perché abbiamo fatto l'accorpamento, ma ci sono tutta una serie di cose, come quando due imprese si fondono insieme, quindi ci sono una serie di problemi da superare. C'è la necessità nel giro di pochissimi giorni di eleggere la Giunta e poi diventeremo operativi e nel concreto quello, come dicevo, di immediatamente mettersi al lavoro per dare veramente un supporto al territorio, che il territorio non è fatto solo di imprese, ma anche di cittadini, insomma, per dare un nostro contributo alla crescita economica e sociale di questo territorio. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di Serie D a commentare la sconfitta del Campobasso a San Benedetto e il mister Rosso Blu Massimiliano Favo che ha dichiarato meritavamo qualcosa in più, bisogna verificare qualche situazione arbitrale. Sentiamo. Mister Favo scoccia molto uscire da San Benedetto senza punti dopo aver dominato per 90 minuti. Diciamoci la verità. Scoccia perché questo è un calcio dove vivi di episodi, non sempre chi gioca meglio, chi fa la partita vince. La San Benedettese si è dimostrata più cinica, più esperta in queste situazioni. è logico che in questo momento, per come valuto e penso il calcio, tra le due prendo il Campobasso. Al di là di quello che abbiamo fatto, credo che i nostri tifosi possano essere orgogliosi di quello che hanno visto e se questo può portare un po' di entusiasmo, al di là del risultato negativo, sono contento di ciò. Meritavamo sicuramente qualcosa in più, però a San Benedetto non è facile passare. C'è probabilmente qualche situazione arbitrale da verificare anche sul gol che ci hanno annullato. Gol regolare, glielo conferma. Mi fai incazzare in diretta. Speriamo di continuare così via. Speriamo che questa prestazione possa dare motivazione ulteriore a questa squadra che noi veramente possiamo fare qualcosa di importante. Al di là di quello che può dire la classifica o può dire il risultato finale di questo campionato. Credo che abbiamo l'esigenza di esprimere, per la qualità che hanno espresso oggi, questa qualità di gioco e credo che i nostri tifosi in ogni caso possano essere anche coinvolti da questo modo di giocare e potrebbe essere questa la nostra soddisfazione. Un avventore che era vicino a me in tribuna stampa mi ha chiesto se il Campobasso era quello in maglia bianca. 19 punti di distacco probabilmente li aveva invertiti vedendo le squadre oggi sul terreno di gioco. Ma com'è possibile che questa squadra ci abbia messo così tanto per giocare in questo modo? Così tanto? Questa è un'altra squadra. È un'altra squadra rispetto a quella che ho trovato io. Praticamente oggi giocavano i due centrali, i due Grazioso e Alessandro. Quindi non è la stessa squadra che... Ma a livello mentale però c'è stato un cambio di passo anche in questi ragazzi che erano parte dell'altro gruppo, diciamo. Ma sì, perché credo che io ho dato coerenza nel mio lavoro. Sanno benissimo che io cerco sempre di non guardare in faccia a nessuno, metto tutti alla pari. E questo dà motivazione a tutto il gruppo. Giocatori che erano abbandonati stanno giocando e questo credo che sia di monito anche per chi adesso sta fuori e sa che in qualsiasi momento può giocare. Una vittoria difficile ma che manteniamo stretta così il mister della San Benedettese, Ottavio Palladini, dopo la gara della ventesima giornata di campionato. Sentiamolo. Siamo con l'allenatore della San Benedettese. Mister, una vittoria un po' più difficile rispetto alle previsioni. Sì, sì, molto difficile ma le previsioni sicuramente non erano così semplici come magari qualcuno la poteva far sembrare. Perché il campo basso secondo me è una delle squadre che in questo momento gioca meglio a calcio. Una squadra che sta molto bene in campo e quindi io penso che il campo basso abbia fatto una grossa partita. Forse ha portato a casa meno di quello che meritava. Noi ci teniamo questa vittoria importante e difficile contro una grossa squadra che sapevamo che non era così semplice. Le grandi squadre probabilmente anche nelle giornate peggiori riescono a trovare i tre punti come la San Benedettese oggi. Come diceva lei forse il campo basso avrebbe meritato quel pizzico di fortuna in più. Anche perché il gol del pareggio era regolare. Ma io non posso dire da fuori se era regolare perché da dove sto io sinceramente non posso dire se era regolare o no. Al di là di questo abbiamo fatto una vittoria difficile contro una squadra forte. Molto organizzata sapevamo perché il mister Favo lo conosco molto bene. Per il fatto che questo girone lo conosce molto bene avendo allenato l'Ancona, avendo allenato l'altretico Trivento. E quindi è una squadra molto forte. Sicuramente noi abbiamo fatto meno di altre partite ma forse la partita di domenica per noi è stata quella passata, è stata più pesante rispetto alle altre. Perché abbiamo giocato su un campo veramente disastroso dopo che abbiamo giocato mercoledì e quindi forse abbiamo recuperato meno rispetto alle altre squadre. Però anche oggi la squadra ha dimostrato di voler soffrire fino alla fine e ci è riuscita. Secondo lei questo campo basso dove può arrivare per come l'ha visto oggi in campo? Per come l'ho vista io secondo me se il campionato fosse iniziato magari da poco penso che sia una delle squadre da battere. Perché il campo basso è una squadra forte, una società seria e soprattutto una società ambiziosa e sta facendo veramente bene. Quindi gli auguro di continuare così anche perché se lo meritano, ripeto, oggi noi abbiamo forse preso di più di quello che meritavamo. Però i complimenti ai ragazzi perché hanno sofferto anche in dieci e hanno voluto portare a casa un risultato importante. E dalle molisane passiamo alle altre squadre del campionato di Serie D. Parlando in particolare della gara tra Folgore-Veregra e Fano, terminata 0-3 per il Fano. Il servizio. F contro F, ovvero Folgore-Veregra contro Fano. Un derby quasi inedito tra due squadre che si affrontavano a viso aperto per guadagnare quei tre punti che servono per mantenere dritta la barra dei propri obiettivi. Salvezza per i veregrenzi, Lega Pro o quantomeno playoff per i fanesi. I primi dieci minuti di gara sono vivaci e la Folgore fa venire più di un brivido a Marcantonini. Al sesto fuga di sbarbati sulla sinistra ma il numero sette di casa pretende troppo dal suo dribbling. Poi poco dopo Nazziconi dalla destra crossa in area ospite. La difesa granata sventa. All'ottavo da corner la palla attraversa tutta l'area ospite senza che nessun avanti calzaturiero intervenga a far del male. E poi al decimo, grazie a una di quelle giocate degli uomini di maggior spicco, l'alma passa. Borrelli recupera sulla sinistra un bel pallone ed effettua un cross al bacio sul secondo palo per la testa di Gucci che s'avventa di prepotenza e potenza sul cuoio e insacca il vantaggio del Fano. Passano cinque minuti e il Fano raddoppia. Marianeschi in becca a Sivilla scattato in maniera regolare secondo la terna arbitrale. Il numero sette ospite si trova solo soletto a tu per tu con Marani e non ha difficoltà a scavalcarlo regalando il raddoppio alla sua squadra. Due gol in cinque minuti sono un pugno nello stomaco per la Folgore che stenta a riorganizzarsi mentre il Fano continua a far vedere cose notevoli dal punto di vista della manovra corale e della tecnica individuale. Minuto ventinove, Gucci vicino al Tris. Il bomber di Bagno a Ripoli viene lanciato sul filo del fuorigioco da Borrelli, fugge verso Marani, poi scaglia il suo dardo che finisce però di poco alato. Poi il Tris, vero e proprio, arriva al trentasettesimo quando Mandorlini atterra Marianeschi in area di rigore. Marianeschi protagonista di una poderosa percussione in area locale. Sul dischetto va Sivilla che realizza il 3-0 e anche il suo secondo sigillo personale in questo derby. E così, Folgore Veregra 0, Fano 3. Di nuovo lui, Andrea Sivilla. Ma vediamo. Intanto è sempre il Fano nel secondo tempo ad andare vicino al gol dopo tre minuti. Gucci va via sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Marani, lo salta, si allarga, poi al momento del tiro il suo shoot non inquadra la porta. Due minuti dopo fallo di Verruschi su Padovani ai 25 metri. Della punizione si incarica Mannoni che lascia partire un destro velenoso stoppato dal gomito di Lunardini in barriera. Maranesi di Ciampino assegna il penalty ai locali. Massima punizione che si incarica di battere Pedalino che calcia forte, tira angolato, ma Marco Antonini è un felino e ribatte il calcio di rigore. Giornata davvero storta per i veri grenzi oggi. E finisce così. Folgore Veregra 0, Fano 3. Bella partita. Squadre volitive che sanno quello che vogliono e lo mettono concretamente in campo. Ma la differenza oggi l'ha fatta il potenziale delle due squadre. La Folgore ha fatto la sua partita e deve riflettere sugli errori commessi. Ma i locali oggi hanno trovato davanti a sé un ostacolo davvero grande. Il Fano non solo era in forma, ma in alcuni elementi era davvero in stato di grazia. Bene, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per aver scelto l'informazione di Modiste TV. Vi lascio al Meteo e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci. Il Meteo è offerto da Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai l'esclusiva, i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Una nuova perturbazione avanza da ovest, determinando così cieli da irregolarmente nuvolosi a nuvolosi o coperti, con possibilità di qualche isolato fenomeno nella notte. Venti deboli in rinforzo dai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 1350 metri. Temperature per lo più stazionarie. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima meno 4, massima 1. Isernia minima meno 4, massima 4. Termoli minima 4, massima 7 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. A consegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.